Ciao a tutti, vediamo in questo video 17 significati dei sogni che non dovresti mai ignorare. In questo video voglio spiegarti quali sono dei significati dei sogni, perché i sogni ci mandano dei messaggi, sono dei messaggeri, messaggeri della nostra parte emotiva. 17 significati che non dovresti mai ignorare. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vorrai avere delle risposte precise alle tue domande, puoi abbonarti al canale con una quota simbolica. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande. e in apposite live dove risponderò in diretta alle tue domande. Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Allora, veniamo dunque al tema. Quali sono 17 significati dei sogni che non dovresti mai ignorare? Allora, il primo significato è quando ti senti in trappola, quando ti senti perso, quando senti che ti senti bloccato. Ecco, questo è un significato che non dovresti mai ignorare, perché ignorare questo significato significa, diciamo, perdere un'opportunità. Qual è l'opportunità che ti dà il sogno? Il sogno ti sta dicendo che devi decidere, che è giunto il momento di prendere una decisione. Ogni volta che ti senti bloccato in qualche modo, intrappolato, diciamo così, devi prendere una decisione, non puoi più procrastinare. Secondo sogno è quando sogni delle scatole, delle cose chiuse, un forziere, un qualcosa di chiuso, un qualcosa che contiene, possono essere scatole, può essere un forziere, può essere un baule, insomma, un contenitore chiuso. Può essere anche una porta chiusa, che dà su una stanza chiusa. Allora, il sogno ti sta dicendo che c'è un segreto da scoprire, c'è qualcosa di non noto da scoprire, un segreto. Devi andare alla ricerca di qualche segreto che è molto importante per la tua vita. Un terzo sogno è quello di perdere il taxi, il treno, il bus, l'aereo, arrivare in ritardo. Ti sta dicendo il sogno che ti stai perdendo delle opportunità e quindi devi iniziare a cogliere le opportunità che la vita ti presenta, perché altrimenti perderai, diciamo, delle possibilità. Quindi inizia a cogliere le opportunità. Altro sogno tipico, il quarto, è cadere. Questo sogno rappresenta la voglia che ha la tua parte emotiva di trasgredire, soprattutto a livello sessuale. Quindi forse trasgredire un po' di più è importante. Quinto sogno, essere inseguiti, cioè avere qualcuno che ti insegue e scappare. La tua parte emotiva attraverso questo sogno, il significato di un sogno che non dovresti mai ignorare, ti sta dicendo che devi affrontare una situazione. C'è una situazione da affrontare e devi essere pronta ad affrontarla. Sesto sogno, il cui significato non dovresti mai ignorare, è legato ai denti. I denti, togliere i denti, togliere i denti ad esempio rappresenta la perdita della sicurezza. I denti in generale rappresentano l'insicurezza. Quindi il sogno ti sta dicendo che devi affrontare finalmente la tua insicurezza. E poi, il settimo sogno, ci sono piccoli insetti, formiche, piccoli animaletti che ti stanno indicando che nella tua vita ci sono dei piccoli problemi che però vanno affrontati prima che diventino molto grandi, prima che crescano. Ti sta dicendo il sogno, affronti i tuoi problemi. Ottavo, ottavo segno sono i capelli, sognare i capelli. Io ogni tanto sogno i capelli comunque. È la voglia di seduzione, la voglia di sedurre i capelli. sono il simbolo di seduzione per eccellenza. Quindi ti sta dicendo il sogno che devi sedurre, devi conquistare. poi c'è altro sogno, è l'acqua e il mar aperto. Acqua e il mar aperto da un punto di vista onirico significano la voglia di uscire fuori dalla zona di comfort. Il mar aperto rappresenta anche i rischi e quindi la voglia che avrebbe la tua parte emotiva di correre dei rischi. Veniamo al decimo sogno che è la casa. La casa rappresenta quel luogo sicuro, quel posto sicuro, ma rappresenta anche la vita interiore. Quindi sognare la casa significa avere necessità di fare un percorso interiore, andare a guardare dentro di sé, ma rappresenta anche la voglia di sviluppare una vita interiore, la voglia di sicurezza, la voglia di famiglia anche, la casa rappresenta anche la famiglia. Undicesimo sogno volare. Questo è un sogno, anche questo è un sogno molto tipico che ti sta dicendo la tua sfera emotiva che devi fare scelte coraggiose. Devi scegliere, fare scelte coraggiose. Sognare la strada, dodicesimo sogno. La strada rappresenta il collegamento, il movimento, è tempo di agire, è tempo di agire. Poi altro sogno è sognarsi nudi. Questo significa temere il giudizio, avere paura di essere giudicati. Questo è il tredicesimo sogno, la strada è la dodicesimo, il tredicesimo sogno che non dovresti mai ignorare è la paura del giudizio. Evita di avere paura di temere il giudizio degli altri. E poi il quattrodicesimo sogno sono i fiori. Il fiore rappresenta un'opportunità da cogliere. Un fiore non colto rappresenta un'opportunità mancata. Quindi la tua sfera emotiva ti sta dicendo che nella tua vita devono entrare delle opportunità. Ci sono delle opportunità ad accogliere e questo è molto importante. Quindicesimo sogno è sognare il fango, di essere impantanati appunto, di essere nel fango. Ecco, la sfera emozionale è un significato di questo sogno che non dovresti mai ignorare, è di liberarti, di sbloccarti. ci sono delle cose che ti tengono appunto impantanato, che ti tengono appunto bloccato. E poi un altro sogno importante è sognare di sbagliare, cioè sognare di commettere degli errori. Questo rappresenta un po' le nostre paure, soprattutto la paura di sbagliare, la paura di non fare le cose giuste. Ti sta dicendo la parte emotiva che devi agire, è venuto il momento di agire. E il dicesettesimo sogno in realtà riguarda dei gruppi di sogni che sono i sogni ricorrenti. Ogni volta che fai lo stesso sogno per un po' di volte è diciamo un messaggio che proviene dalla sfera emotiva che riguarda qualcosa che tu devi affrontare per la tua crescita personale, un passaggio obbligato, un sogno karmico. Spesso il sognare diciamo sogni ricorrenti rappresentano proprio dei passaggi karmici, dei nodi karmici che devi affrontare se devi sviluppare la tua crescita personale. Lascia nei commenti qua sotto quello che ne pensi, qual è la tua opinione, se hai qualche sogno ricorrente, insomma lascia la tua opinione così diamo un contributo alla community. In più iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica del nuovo video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vuoi ottenere qualcosa di più tipo delle risposte precise mirate alle tue domande basta che ti abboni al canale. Abbonandoti al canale ti darò in apposita live delle risposte mirate alle tue domande. Per questo video è tutto ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!